1, 2, 1 per vuoto, prende le 2, ma il 2 resta equilibrato, se no mi ammazzo. Però secondo me... Questo è un'esplosione, ma questo è un'esplosione, è un'esplosione, è un'esplosione. Quella un'esplosione. Oh! 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 No idea! Oh! 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 Non lo so eh! Perché uno o due erano qua eh! Guarda! 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 E' qua! E' qua! E' qua! Missica! Marco è gigantesco Non riusciremo mai a portarlo qui non riusciremo mai non riusciremo mai uno lascialo lungo che glielo do al Marco da portare via il tombino attacco le due cinghie lo metto in spalla o porta via momento momento lascia finire qua aspetta aspetta che arriviamo vai a vedere tanto dovrebbe essere subito lì sopra più se a pese è solo il pezzo di legno se attacco il tombino con questo porto adesso va bene si è perso meglio meglio no no le mettiamo lì e gli facciamo vedere